Monitoraggi, controlli e soprattutto sanzioni contro abusi e irregolarità. Regione Toscana e Spettorato Interregionale del Lavoro di Roma hanno sottoscritto un protocollo di intesa per collaborare nelle attività di vigilanza sui tirocini. Nel 2018 in Toscana quasi la metà dei giovani che hanno svolto un tirocinio ha trovato un lavoro nell'arco di sei mesi. Il quadruplo rispetto a cinque anni fa ha dimostrazione che i tirocini non sono solo uno strumento formativo ma anche di ingresso nel lavoro. Naturalmente però bisogna fare di tutto per contrastare gli abusi quindi il tirocinio non deve essere mai una sostituzione di lavoro il tirocinio deve essere uno strumento formativo dove il ragazzo si forma e comincia ad entrare dentro un'azienda infatti spesso poi si trasforma non necessariamente nella stessa azienda ma comunque in un rapporto di lavoro a volte anche stabile. In Toscana i controlli a campione effettuati dall'ispettorato hanno portato alla luce situazioni irregolari nel 30% delle aziende esaminate, una media molto più bassa rispetto al dato nazionale che sfiora il 70%. È un istituto che va governato e va governato con equilibrio e quindi le due competenze messe insieme consentiranno uno sviluppo di quelli che sono stati definiti per lo appunto percorsi formativi di qualità. Regione Toscana e Ispettorato del Lavoro si sono impegnati anche a favorire le attività di aggiornamento e lo scambio di informazioni con sindacati, ordini professionali e imprese. Grazie Grazie